Per il Teatro Donizzetti di Bergamo, per la riqualificazione del Maggiore Teatro Cittadino di Bergamo, l'azienda Magnetti Building, come azienda Magnetti Building abbiamo progettato, industrializzato e realizzato i pannelli di facciata che caratterizzano ora il rivestimento della torre scenica e di tutto il corpo del fronte est, quindi che riguarda i nuovi camerini e gli ambienti polivalenti oltre alle scale di emergenza. Si tratta di lastre di grandi dimensioni, hanno dimensioni che variano fra gli 80 cm x 240 e 160 cm x 3 metri e di piccolo spessore, fra i 3,5 cm e i 4,5 cm a seconda delle dimensioni, realizzate con una malta di elevate caratteristiche meccaniche ma anche con una valenza, con una forza di valenza architettonica avendo delle caratteristiche, avendo una caratteristica reologica che la rende molto plastica e quindi molto adattabile ad assumere qualunque tipo di forma gli si imponga. Si tratta di lastre rinforzate con fibra di vetro al loro interno e con una superficie esterna poi trattata con idrosabbiatura per renderla coerente con il contesto della parte rimanente del teatro. Grande parte del lavoro è stata la ricerca delle colorazioni che dovessero integrarsi con i corpi di fabbrica esistenti del teatro, un lavoro che ci ha permesso di partecipare alla riqualificazione del più importante teatro della nostra città e che ci ha visto realizzare circa 800 pezzi per all'incirca più di 1600 metri quadrati di superficie coperta che oggi consegniamo insieme il resto del teatro alla città di Bergamo che accoglierà prossimamente l'inaugurazione del teatro.